Ha sentito parlare della proposta di legge sulla legittima difesa? Sì, ho sentito parlare. Potrebbe funzionare soltanto se è una legge che va anche di giorno, non solo di notte. Sparare no, perché sono contrarre alle armi, però con un bastone lo prenderei abbastonata. Posso dire tranquillamente che non può dipendere dall'orario, o se è buio, o se è giorno, la difesa del cittadino. Niente, si deve arrivare a un punto di equilibrio, secondo me. Io non ho armi a casa, quindi mi difenderei sicuramente, non so come, però obiettivamente direi che sparare forse non ci riuscirei in effetti, però sicuramente cercherei di difendermi. Sì, vagamente ho sentito qualcosa, devo dire che non mi sono addentrato nella notizia, però qualche cosa ho sentito e in ogni caso io sono contrario all'uso delle armi, della violenza in genere e di conseguenza non accetto questo tipo di soluzione. Diciamo che non è così facile, purtroppo lo Stato non può dire ai cittadini, chiunque entra in casa ha sparate, ovviamente c'è bisogno di un compromesso, però è anche vero che se un ladro entra in casa prima dell'orario stabilito della proposta, purtroppo un cittadino è costretto a difendersi, quindi non è così facile né stabilire una legge da parte dello Stato, né per un cittadino rispettarla nel caso in cui si dovesse trovare in pericolo. Spareresti? Non saprei, onestamente risponderla a questa domanda, se mi trovassi in pericolo sì. Per me è una stupidaggine, pensare di poter sparare o avere una legge solo che dura a fascia oraria è una stupidaggine, ho un ladro che mi entra cinque minuti prima cosa faccio? Chiamare la polizia come mi devo comportare? Cioè è veramente una stupidaggine. Spareresti? Bisogna trovarsi nella situazione giusta, insomma, non è una cosa facile, bisogna sentire, sono certo che se uno entra in casa di notte o un'arma non so insomma come posso reagire, questo è poco ma sicuro.